Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata della Computer Museo Puntata che andremo a vedere gli adattatori per sim card In questo caso ci sono arrivati in una busta che come vedete è stata anche sigillata un po' male E a parte il bollino, aspettate non mi ricordo, il franco bollo da 70 centesimi E vabbè che arriva praticamente dalla Slovenia Infatti stavo leggendo Slovacchia più che Slovenia Andiamo ad unboxare il pacco Scusate per lo scotch arcentato ma l'ho dovuto mettere perché ovviamente fa vedere dove abito E quindi non è proprio una bella cosa Allora, eccolo qui Questi sono le sim card nano adapter Praticamente sono sim card che servono come adattatore In caso che dobbiamo usarle per, non so, iPhone, Samsung Galaxy o roba del genere Oppure per i Blackberry Infatti abbiamo come vedete diversi tipi di sim card Infatti abbiamo tipo micro sim, micro sim un po' più grande E rsim che credo che sia proprio quella un po' ancora più piccola Comunque vabbè non è che è chissà che però come vedete si può utilizzare benissimo come adattatore In caso che avete come me cellulari di vecchio genere al posto di quelli nuovi E vabbè a parte quello io vi ringrazio per aver visualizzato questo video E ci rivediamo alla prossima puntata della Computer Museo Ciao